I sanitari e dipendenti di Marche Nord hanno tutti terminato il primo round di vaccinazione. Il 23 gennaio saranno richiamati per la seconda inoculazione assieme agli studenti universitari di infermieristica. Alla fine la percentuale di adesione è stata molto alta e si sono vaccinati anche coloro che inizialmente erano più restii. La fotografia è quella di una macchina che ha funzionato perfettamente come ha spiegato alle telecamere di Fano TV il dottore Edoardo Berselli direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Una campagna nella quale abbiamo cercato di recuperare tutti perché a me piace un po' citare le frasi dei Marines non lasciamo indietro nessuno e così abbiamo fatto telefonando persona per persona per vedere se chi in un primo momento non aveva dato l'adesione avesse cambiato idea. Allora con i numeri che stavo guardando giusto stamattina poi ovviamente sono numeri dinamici perché qualcuno magari non ha fatto la vaccinazione perché non poteva farlo potrà farlo. Comunque abbiamo raggiunto il 94 per cento di adesioni che penso che sia uno dei valori più elevati possibile. Per cui direi che sono molto soddisfatto. Adesso stavo cominciando a fare un'analisi per categoria per cui per vedere se c'erano fasce che magari avevano risposta un po' meno capire il perché e cercare di coinvolgerle. La prima classe che ho guardato è stata quella dei dirigenti medici e in realtà al di là di quello che si dice delle bufale che girano i nostri medici sono 364 medici su 364 362 hanno detto sia la vaccinazione. Quindi due medici non si sono vaccinati ma sono due donne che o sono in gravidanza o stanno progettando una gravidanza. Il 23 partiremo con i grossi numeri perché in realtà ieri abbiamo già fatto 20 secondi vaccinazioni che sono quelli che il 27 hanno fatto il Vax Day per cui abbiamo già fatto i primi 20 richiami tra i quali anche il sottoscritto. Sono vivo a di là di un po' di dolore nella sede di iniezione ma questo è il minimo che ci si può aspettare. Oltre ai richiami andremo a fare anche concordato con la regione andremo a vaccinare tutti gli studenti di infermieristica, gli studenti delle professioni sanitarie che accedono ai nostri corsi universitari. Quindi loro saranno i prossimi perché frequentano poi con i tirocini obbligatori e quant'altro frequentano la struttura ospedaliera e anche loro non saranno lasciati indietro. Grazie a tutti.